Mezz'ora Mezz'ora di Minecraft Intanto qua io ho visto Tutti i vostri commenti e ho rimesso A posto Quei blocchi che mi ero dimenticato In più noi facciamo così E tac casetta diciamo Che è pronta Allora innanzitutto che cosa ci serve Ci serve assolutamente di prenderci La sabbia quindi Andiamoci a prendere la sabbia Intanto qua dovremmo ricortivare le carote Vedete assolutamente Ah qui stanno nascendo le zucche che carine Quindi qua almeno speriamo che funzioni così Poi vedremo Perché in molti mi avete detto Sì funziona così Altri no non è vero Altri sì è vero E roba del genere Quindi noi ci prendiamo la sabbia Vai Magari troviamo anche un tesoro nascosto Non si sa mai Perché tra l'altro io volevo pescare Volevo vedere se ci ridavano la canna da pesca Quella magica Non lo so Vediamo eh Comunque penso che dovrebbe abbastare Vediamo un po' Mi si è sminchiato il mouse per un attimo Mi si è sminchiato tantissimo Ok Prima di fare tutto quello che ci serve Però Dobbiamo ottimizzare qua Perché vedete qua è tutto pronto Guardate che bello È tutto tutto pronto Quindi questi ci riprendiamo E le ripiantiamo qua Anche qua Guardate Comunque è bellissimo Quando sono tutti pronti Tranne questo qua Questi due che hanno voluto Fartica porcia loro Va bene Va bene Bastardi Bastardissimi Ok quindi Andiamoci a fare Andiamoci a fare Con quell'intonazione Ci andiamo a fare Il vetro Però aspettate Aspettate un attimo Ah eccola Allora ce l'abbiamo E allora ce l'abbiamo Ditemelo subito Questo lo mettiamo qua Questi ci li possiamo togliere E al limite E al limite Visto che voglio ottimizzare tutto quanto Facciamo un'altra Ok Allora dobbiamo decidere Quale Cosa si è fatta notte E che cos'è Dobbiamo decidere Quale sarà l'angolo cucina Allora ipoteticamente Questo qua Io lo volevo utilizzare così Guardate che spettacolo Almeno io Volevo fare così Volevo fare così E qua ci volevo mettere Tipo i cartelli Guardate Mo 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 facciamo tutto Mo facciamo tutto Non è un po' scomodo Però così Attenzione Perché non vorrei che Se ci metto il cartello Qua non ci passo più Allora vediamo eh Allora Allora mi facciamo Un divanetto da tre Che secondo me è meglio Facciamo un divanetto da tre Assolutamente Qui quanti so Qua ne manca uno E qua ne manca uno È perfetto È perfetto È perfetto Facciamo il divanetto da tre Allora vediamo un po' Ehm Come si facevano i cartelli Io adesso vado totalmente A caso Anche se Più o meno Me lo dovrei ricordare Così Olle Mamma mia signori Mamma mia signori Quando faccio così Fatto Tiè Beh guarda Che tecnologia Che tecnologia Guardate che bel divanetto Guardate che bello Mamma quanto è bello Questo divanetto Ok Che poi tra l'altro Non vedo ora di farmi Le peccurrelle Non vedo ora di farmi Le peccurrelle Che ci danno tanta lana Allora questo abbiamo detto Che qui ci faremo Il televisore È fin qua Tutto a posto Ehm Allora Angolo cucina L'angolo cucina Qua mi sembra un po' Troppo piccolo Io qui sapete Che cosa ci farei Guardate eh Allora Facciamo di questo Uno Due E tre Anche se tre Ipoticamente Non me le tiene Quindi facciamo così E facciamo di questo Uno Due Vedete infatti Non me la tiene Non me la tiene mai Non me la tiene mai E vabbè E questa qua la buttiamo Questa facciamo finta Che non è stata mai creata Quindi la buttiamo Per di qua Qui Ah ci abbiamo anche L'inchiostro Volendo già Sì però aspettate Io sto facendo di tutto Allora Angolo cucina L'angolo cucina Ipoteticamente Dovrebbe essere un angolo Però non ci abbiamo angoli Quindi al limite Allora O creiamo un altro muro Che si potrebbe anche fare Però anche se è così A me piace Vediamo un po' Eh Qua adesso bisogna Semplicemente Adattarsi un attimo Mi deve venire Tipo l'idea brillante Tipo qualcosa di Ma che spettacolo Roba del genere Allora io sai che farei Aspetta ma non ce l'ho Quell'altro Sì che ce l'ho Pochissimi Ce ne ho pochissime Vediamo eh Vabbè oddio Non ce l'ho di più Di quello che pensavo O se non ce lo facciamo In marmo O se non ce lo facciamo In marmo Cioè in pietra Secondo me è più carino Così Tipo l'angolo cottura Facciamo così Guardate eh Ditemi sempre Se siete d'accordo Se non siete d'accordo Qui io ci metterei Eh Tipo il tavolo da lavoro Ti è Becca qua Qua se fanno Certe magnate Regà Ma che ve sto Ma che ve sto dire Regà Ma che ve sto dire Allora qua Cuciniamo Intanto ci facciamo Il vetro Con questo qua Sì Direi che ci siamo Direi che ci siamo Che bellissimo Angolo cottura Che abbiamo fatto Qui poi Mi dovete dire Come si fanno i vasi Nel senso Io adesso ci posso Anche provare Perché magari Mi dice fortuna E li riesco a beccare No Vedete Non ci sono riuscito mai No Non ci sono riuscito mai No Non ci sono riuscito Ci provo l'ultime volte Così No L'ultima volta Poi mi dite voi Così Vabbè A posto Questa sarà una cosa Che mi dovrete dire voi La prossima volta Qui è pieno di No creeper No 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 Ma ha puntato un creeper No Casa mia Non si tocca Lascia fare Ok Quindi L'angolo cottura Qua Bastardo Bastardo È vero Mi devo fare le porte Mi devo fare le porte Potenziate Perché sennò qua Buttano giù tutto No Bastardo Vabbè Meno male che Non si comporta male Cioè nel senso E quindi qua L'abbiamo fatto E qui L'abbiamo fatto Però Anche se Non sono proprio convinto No massimo Questo di marmo Mi va bene Sì 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 Vabbè comunque adesso Lo lascio di marmo Poi mi direte voi Poi mi direte voi Qui io lo lascerei Bello aperto Perché qua ci mettiamo Le librerie Ci mettiamo I tavolini Che tra l'altro Vorrei fare E tra l'altro Aspettate Perché qua È tutta una cosa D'abbellimento Facciamo così E vorrei metterci Ci vorrei mettere Che la metto a fare qua Non ha senso Sta cosa Non ha senso Perché dovrei fare così Qua voglio fare un tavolino Voglio fare un tavolino Quindi Vediamo un po' Vediamo un po' Che cosa ci serve Ci serve Ipoteticamente Gli stecchini Giusto Eh sì Penso proprio Che ci servono questi Quindi questi Li mettiamo qua E cavolo Però me ne potrei fare Pure un po' Di più eh Non è che stiamo qua A sbucciare fave Nel senso Allora qui Mi vorrei fare Guardate che Beh mamma mia Mamma mia Questo Grazie ai vostri consigli eh Uno Due Tre E ce ne abbiamo quattro Tolgo un attimo La spada Ma proprio un attimo La tolgo eh Guardate Che bello Questo tavolino Mamma mia Quanto è bello E le sedie Le sedie Le farei Tipo Aspetta Se io faccio così Non me le piazza mai Non me le piazza mai Le sedie Se io faccio così Eh esatto Me la piazza Me la piazza per di qua Quindi se io faccio Per così Ho Bisogna un attimo Buggerarlo il gioco Così Facciamo Come la piazzo questa? Come la piazzo? Aiuta 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 Ma che Non è molto comoda Io lo dico È una cagata pazzesca Metti qua No No Mai Va bene Va bene Va bene Vince Vince lei Vince lei È un po' tecnico Va bene Quindi facciamo così Ma io ne voglio mettere Una molechina È giusto Ma come faccio? Come faccio? Guarda che io spacco tutto Ve lo dico io spacco tutto Va bene Io spacco tutto Non ci sono problemi Ok Visto Con un po' di cattiveria Funziona sempre No 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 Aia No Il tetto E ci rimettiamo La texture Session E Farei sempre i divanetti Non lo so Che facciamo Lasciamo così O facciamo i divanetti No Io farei così Io lascerei così Che è molto più comodo E carino Che bello Che bello Che bello Ok E qui E dobbiamo vedere Se è pronto Vediamo eh Tanto ce le possiamo Prendere anche da qua No State calmi innanzitutto Bastardo Guardalo Da qua Mi fa gli attattati Morici Bastardo Vieni qua Ecco No Non venire alla porta eh Non venire alla porta eh No E vabbè E so due Basta che non cominciano A rompere le palle Che incominciano a bussare Poi se è per quello A me non mi interessa Mi avete detto anche Che potrei fare le lastre di vetro Volendo Volendo Potrei fare le lastre di vetro Quindi vediamo eh Voi mi avete detto Come si facevano le lastre di vetro Madonna Ragazzi Mi ricordo tutto Ma possibile che mi ricordo tutto Ma quanto siete bravi Ragazzi Veramente Quindi mettiamo Questo qua Le lastre di vetro Ma che belline Mettiamo qua Così almeno non entra l'aria Perché fa alquanto freddo In questa casa Quindi mettiamo questo qui Ok Ok Signori Casa comincia a prendere forma Una forma nel colore Una grande emozione Ok Qui ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Tra l'altro Voi mi avete detto Però non sono dritte le porte Cioè queste non combaciano con quell'altra Ma io non volevo farle combaciare Cioè Non Mica che è una Mica so Come si dice È fatta apposta Cioè non mandava veramente Di farle combaciare Quindi qui ce l'abbiamo Ipoteticamente Mi dovrei fare I lampadari Ipoteticamente Mi dovrei fare i lampadari Ma i lampadari Non sono facili da fare Io me lo ricordo Perché poi ci sbatta la capoccia Cioè perché se io metto Un Se io faccio Mettiamo così No Se io faccio così Questo posso metterlo qua No col cacchio Neanche con qui Neanche con là E se ci metto la texture plate Vediamo un po' Perché ce n'ho una Che mi avanza E se io ci sbatto questa qua Col cacchio Che funziona L'unica cosa Che dovrei fare È questa Eh però Cacchio Questo non è il lampadario Cioè ci sbatta la faccia Ciao Esplode No quindi lo togliamo Quindi via Se ci avete idee Magari ditemelo Anche così E casa è bellissima Dai su Chi Chi si ricorda Allora chi si ricorda Sta canzone Basta non mi danno il copyright Chi chi che giornata Il sole splende forte Mi fratello sicuro sa Ricorda Chi chi è già qui Nella fattoria Chi chi Puzza via Vecchia nuvolaccia Con lo sgasgo E con lo sgabsgo Roba è un cartone animato Che ci vedevamo noi da piccoli Grande cartone animatini Una volta ragazzi Ecco Bruciate male Morite morite Tutti quanti Bastardi Bastardi Bastardissimi Allora Tra l'altro Tra l'altro Tra l'altro Io vorrei farmi intanto I vasi Vorrei farmi i vasi Questa al limite La usiamo come magazzino Si può fare Tranquillamente E Adesso Voglio farmi Di questo Voglio farmi di questo Dobbiamo fare La zona letto Quindi zona Ninna nanna Ninna o E la metto qua E olè Bellissimo Bellissimo Mi piace Mi piace tantissimo Mi piace veramente tantissimo Questa faccio così Oh Un po' di privacy Per cortesia Un po' di privacy Ok Quindi questo Non mi piace mai Così Non mi piace mai Ma veramente Mai 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 Ok Questa la lasciamo pure così Al limite Al limite Si può fare così Guardate Possiamo togliere questo Oh Eh Che cacchio Lasciamo un po' di privacy Eh Ma metti caso che poi arriva una ragazza Che faccio Che faccio No tranquilla Tanto Eh Però l'ho fatto Ma no L'ho fatto Non l'ho fatto Matrimoniale Do la metto Su Qua Si metta qui lei Ma no Devo farlo matrimoniale per forza Assolutamente Vabbè Ma che palle Devo fare il letto matrimoniale Ma io non lo so eh Ma io guarda Veramente non lo so C'ho solo tu così Ma sono blocchi di neve Non sono così di pecore Ma porca miseria Allora Intanto Questo ce lo dobbiamo E intanto va bene così Poi ci Ci faremo anche quello matrimoniale Ci faremo quello matrimoniale Questo lo mettiamo qua E ci mettiamo La porta Ti è Regà Ma che vesto a di Ma che vesto a di All'imite qua potremmo metterci anche No Sì Mettiamoci qua la torcia Oh che ci sta Ci mettiamo qua una torcia Qui ci mettiamo le librerie E tra l'altro Ci abbiamo Eh Anche la possibilità Ciao ciccioneve Oh è cresciuta una zucca C'è una zucca enorme Ok perfetto Ok Qui ci abbiamo tutto E togliamoci la roba Che adesso E ripeto Che adesso Non ci serve Tipo sti 50 ettari Di semi Che non ci facciamo assolutamente niente Qui ci abbiamo tutto E direi Di sì Allora Andiamo Intanto Perché lo dobbiamo fare Lo dobbiamo fare In questo Speciale In questo special Signori Questo special Per i 70.000 iscritti Di minecraft Me l'avete chiesto Me l'avete chiesto Io vi sto accontentando Quindi ragazzi Mi raccomando Tanti bei pollicioni in su Ripiantiamo Le carote Perché Dobbiamo Giustamente Far Accoppiare I maialini Quindi Questa Me la lascio Qua Cioè Queste le posso Anche ripiantare Allora Ipoteticamente Qua Mi è cresciuta la zucca Quindi va bene Qui non mi è cresciuta la zucca Quindi va male Cioè Questa Devo capire come piantare le zucche Semplicemente quello Allora Questa Qui la lascio Perché Ipoteticamente funziona Qui funziona Sempre ipoteticamente Cioè Dovrebbe funzionare così Io adesso Le voglio Proprio lasciare così E vedere se funzionano Assolutamente Perché secondo me Lo sbocco ce l'hanno Secondo me Ok Andiamo qua Maialini Aspetta no Che se no mi Mi assalgono Maialini È arrivata la pappa Pappa Tiè 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 Fate i zucpe zucpe Fate i maialini Maialini Vai Mamma mia Un orge incredibile E poi arrivano i piccoletti Guarda guarda la gente che si fa No maialini maialosi Guardali Eccoli qua Ok Basta però E che palle Via E che cos'è Ok E adesso Dopo che abbiamo Dato da mangiare Alle nostre Bellissime Qua c'è No non c'è ancora grano Andiamo dalle nostre pecorelle Che sono bellissime No No Dove vai brutta bastarda Io c'ho il grano Salve Vai Zoom e zoom Zoom e zim Che c'è a te non te va Vai su Eh vedi tanto ti vengono a prendere Cioè non è che scappi più di tanto Ok Ma quanto siete carine Le picorine Picorelle Picorette Siete carinissime Allora uno Due e tre Sì è giusto Basta Basta Per cortesia Via Ecco Mangiatevi la roba Dai su che mi servite Ci servite tantissimo Oh Tantissimo Tantissimo E qui Anche questo L'abbiamo fatto Una cosa che dovremmo fare Ipoteticamente È costruire Salve maialino È Dovremmo costruire il tetto Ci dovremmo costruire il tetto Ma Sinceramente Dobbiamo prendere Tanto 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 legno E visto che ci dobbiamo prendere Tanto 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 legno Dobbiamo prima ripiantarlo Quindi oggi vi ho detto Oggi dobbiamo Essere organizzati Oggi dobbiamo essere organizzati E Dobbiamo andare A capirei Cioè no Ah ecco Ok Perché vi avevo detto Che li avrei ripiantati Tranquillamente Quindi questi Ce l'abbiamo Capirei non ce ne ho tanti Però eh Vabbè mettiamo pure quelli di betulla Non si sa mai Così almeno ce l'abbiamo Vicino casa E per il resto Ci va bene così Ovviamente Un'altra zucca Ovviamente 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 Ci ripiantiamo Vicino casa O al limite Li potrei anche ripiantare In modi strategici In modi strategici Ma anche no Mettiamoli Come disse Un famoso poeta Li mettiamo a cazza di carne Poi se non conoscete Sto poeta Ragazzi Fatemi una cultura Perché non è che posso dirvi Chi è che ha detto A cazza di carne Insomma Mettiamo qua Qua abbiamo veramente Disboscato tutto E questi di betulla Anche se ipoteticamente A me servivano di più Quell'altri Perché vicino casa Stanno finendo Quindi mettiamo Questi qua Questi qua Ragazzi poi mi avete detto Anche dei cavalli Ma se non ci abbiamo Che è una costruzione? No non credo No 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 È una palute Che poi ci andremo Se non ci abbiamo La sella È inutile che io vada A prendere Quanto sono belli I cavalli Stanno là Ciao Mini pony Ok e andiamo Per di qua Tra l'altro Devo mangiare Mangia Mangia Ok A limite oggi Una scappatella Dai nostri amici Villager Ce la potremmo anche fare Dove è finita la mia spada Perché mi Ma ce l'ho buttata L'ho droppata Non ho capito Che cosa gli ho fatto E mi faccio la canna da pesca Mi voglio fare tantissimo Una canna da pesca Quindi Qua mi avete detto Anche di Di fargli il tetto Poi lo faremo Il prima possibile Quindi Andiamo qui Qua c'è Pronto No non c'è Ok Dobbiamo fare di questo Ci facciamo la spada Che è praticamente Implosa su stessa E non c'è più Ci facciamo Anche Questo Perché Ci sta finendo La zappetta Ipoteticamente Ce l'abbiamo ancora Per un po' Quindi questi Ci li lasciamo Così Questo ce lo possiamo Togliere E via dicendo Qui possiamo Toglierci Tranquillamente I vetri Che non ci servono più Togliamoci le zucche Togliamoci la pedana Che cosa ci facciamo Con la pedana Togliamoci le palle di neve Togliamoci la terra Diamo una sistemata Perché se no Qua Non se puede Non se puede Assolutamente Le carote Ci servono Attualmente No Quindi ce le togliamo Quindi ce le togliamo Queste Faccio così Ok Johnny Ok Qui abbiamo la camera da letto Con le cose Qui eh Dobbiamo farci La televisione Perfetto Allora Quest'oggi Anzi no Quest'oggi in cavolo Voglio andare dai villager Deciso Me l'avete detto in tantissimi Voglio andare dai villager Sì Basta Deciso Deciso Anzi no 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 Prima aspettate Prima aspettate Lo so che non Ok Andiamo qua Andiamo qua Andiamo 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 A caccia di mob Cioè questo voi Non lo sapete Perché Abbiamo finito Delle cordicelle Abbiamo finito Tutto ragazzi Eh Cioè Canna da pesca Eccola quant'è bella Mamma mia Andiamo a vedere Se riusciamo a pescare Qualche cosa No no oggi Ho detto oggi Tra l'altro Mi ero anche preparato Il timer Non so Che ora sia Ma chi se ne frega Vai Ma andiamo avanti Tanto è uno speciale Dai voglio la canna da pesca Quella iper mega pompata Dai Quella mega super pompata Vai Momenti di attesa così Dai Pesci Anzi no Voglio una canna da pesca Uno stivale Un sorpente nello stivale Sì ma cazzo Pronto Dica Ma l'ho appena fatta La canna da pesca Non funge Oh Canna da pesca Canna da pesca Canna da pesca Oh mai una gioia Oh Mai una gioia Vabbè Ritorna qua Qua me lo dico Porca mia Vai È il volante Ok basta Mettiamo qua Dai Ma che Ci stanno i rifiuti tossici Dentro sto laghetto Ma porca miseria Dai Non ci voglio credere Uno Ne voglio uno E poi vado dai villager Uno Ormai mi metto di punta Pronto Pronto Pesci Pesci Ma che davvero Pesci Oh Oh Dai Ma vaffanculo Allora proviamo Chi è Guarda che tiro Becca Dai Porco come i ragazzini Mo pesco Qua Arriva porco due Via Pesce 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 Ma che davvero Ma non ci voglio credere Non c'è un pesce Uno Che sia uno Ma le bolle le fanno Ma che bolle Pesce Pesce Ma non ci voglio credere Ma che cazzo Vieni qua Maglialino Dica Dove stanno i pesci Là ci stanno i polipi Pesce Pesci si sta facendo notte Pesce Ok Io sentivo Eccolo 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 E vaffanculo Ho preso il pesce Ma dai Ma non ci voglio credere Ma sono tutti quelli Che potevo prendere Ho preso un pesce palla Ma dai Che non posso neanche mangiarmi Va bene Va bene Va bene Va bene così D'accordo Ora il pesce palla Lo posso anche buttare Mi dispiace pesce palla Ma io con lei Non ci faccio niente Andiamoci una nina Nella nostra casetta Oh che bella Che bella Che bella Che bella Che bella Ciccio Kimmero 89 Appena guadagnato La conquista Che cocco guadagnato Dove sta l'isordi Va bene Allora andiamoci Andiamo dai villager Andiamo a vedere Se i villager Stanno messi a posto Non ci credo tanto No Che ho fatto L'ho fatto uno screenshot No Faccio Ok Ricordiamoci le coordinate Tanto non le ricorderò mai Quindi L'ho messa così giusto Per farle vedere a voi Qua mi raccomando eh Mi raccomando In guardia State attenti Che noi ce ne andiamo dai villager Ce ne ritorniamo dai villici Ok Quindi io vado sempre dritto Dovrei fare dei ponti Dovrei fare qualcosa Di Immemorabile Vedete qua possiamo prendere Madonna Che cacchio di foreste Gigantesche Andiamo qua Ciao pecorrelle Ciao belle pecorrelle Ciao Ciao belle pecorrelle Io me ne patto per di qua Belle pecorrelle Ma perché state qui E lei perché è incazzata nera Me lo dice Qua abbiamo i funghi Tra l'altro Questo non è un albero Ma è un fungo È un nuovo bioma Ma perché molti mi avete detto Ma che albero è Non è un albero È un fungo Mamma mia Qui che roba Che robetta signori Eh ma mi fai salire Grazie eh Gentilissimi Comunque poteva anche essere Un po' più vicino Il villaggio Nel senso Va bene Non è molto lontano Però 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 Ok Ipoteticamente Noi l'altra volta Siamo andati qua sopra Ah là ci sono anche Altre zucche Non le avevo mai viste Quindi non stiamo Non stiamo andando Ipoteticamente Nella zona giusta Vediamo eh Qui ci sono delle zucche Qua c'è roba strana Se vedete qualcosa di strano Avvertitemi Subito Ma subito proprio Quindi Ipoteticamente Casa nostra sta lì ragazzi Quindi non possiamo sbagliarci Io questi me li prendo Che belli che sono Tulipani Me li prendo Perché tanto poi Voi mi dite come fare I vasi E quindi ci li Sbattiamo dentro Di cattiveria Mi prendo anche questi Vai 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 Prendiamoci un po' di fiori Che poi tanto Quando ci servono Non li troveremo mai più Bello 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 Metto anche questi Guardate eh Ora vado a cacciare i fiori E poi mi perdo Guardate eh Tanto so come so fatto Quindi Andiamo per di qua Tipo Ce ne andiamo per di qua No Andiamo per di qua Ecco Addio mondo Addio Mi sono già perso Perfetto Perché l'altra volta Noi passavamo sopra La foresta Questa volta Siamo alternativi E passiamo sotto Altri fiori No queste sono le rose Bellissime Che bello Mi prendo questi Prendo tutto Oggi prendo tutto Guardate che belle le rose Sono bellissime Vai prendi 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 Ok E qua Ragazzi Again Zitti Zitti Che poi arrivano i mob Zitti Con calma Già pecorelle Zitti 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 Non fate beh Fate ben cazzo Ok tanto mi perderò In un modo orribile Proprio orribile No se finisce la foresta E' bellissima sta foresta Ipoteticamente Finisce un cacchio la foresta Tiè Ah ecco i villici Villici Amici Devastazione morte No ci sono le mucche Quelle che ci servono Ma come le porto da qui Le mucche allaggiù Ma non ce la farò Mai a portare Due mucche Vabbè però Comunque sappiamo Dove stanno le mucche Cioè almeno questo Lo sappiamo Quindi Ricordatevi questa zona Che ci toccherà fare Là va a fuoco tutto Guardate là Lo vedete Io lo vedo Va a fuoco tantissimo Ok Villici Ci siete Siete morti Ragazzi Io non vedo più villici Villici No ecco Li stanno là Ho i polli Eh pure i pollici Servono Ma porca miseria Qua c'è statuto Villici Amici miei Ho portato grano In quantità Sono come quello Della mulino bianco Venite qua Rosita Rosita dove sei Rosita Amici Ah ciao Che cos'è là È un È stisso ai funghi Ciao Che c'hai tu Mi dai le gemme Ok smeraldi Quello là dovrebbe essere Quello che costa di meno Vediamo eh No questo fa gli sconti Tu che fai Oh mi dai Oh bello Allora facciamo così Dove sei Dov'è quello che fa gli sconti No perché non ho visto uno Che fa gli scontissimi Ok Tieni Tre me ne dati Tacci tua Ma che sconti fai Ma è un cazzo T'ho dato un miliardo di cose Mi hai dato cinque Cinque smeraldi Che poi non ci faccio niente Volevo prendermi una spada in ferro Questo sta chiuso qua dentro Ciao Come esce lui Ah esce di qua Ma no Il pane non mi serve Mi fa di rincogionire però Con tutte Mi dà la pietra rossa lui Non ci faccio niente Dietela Qui dentro Il pozzo che c'è Ma mi spingono Ci muoio affogato No ci serve Molto più grano Ragazzi Ci serve molto Molto più grano Ma veramente Ci serve Tantissimo grano Ok adesso Abbiamo gli smeraldi D'accordo Adesso siamo Contenti Ah lì è vero Perché là Ci passavo sopra io Guardate le pecore Questo comunque È anche un altro Bellissimo posto Dove poter stare Però il problema Rimane sempre Quello Come sposto I polli E le mucche Veniamo eh No per chi devo capire Allora le mucche Le mucche Le mucche Si prendono Mi sembra O con il grano O con le mele Giusto? Vi cocacchiate? Boh Aspetta Aspetta Questo me lo direte voi Nella prossima puntata Perché al limite Mi metto proprio di punta A portare Gli animali Assolutamente Magari la prossima puntata La possiamo un po' stare così Anche se dobbiamo andare A caccia di mob Assolutamente Io ve lo dico E ve lo ripeto Faremo una financia orribile Però dobbiamo andare A caccia di mob Quindi questi ci riprendiamo Che sono nostri Spero che questo special Vabbia fatto piacere Quindi andiamocene qua Ancora Olè E ce ne ritorniamo sopra Vedete qua Quanto siamo Intelligenti Che abbiamo detto Ecco Siamo intelligentissimi Attento Con calma Con calma Vedete qua Il villi ci stanno Da sta parte Grazie Ok E ce ne ritorniamo A casetta bellissima Che tra l'altro A me sta diventando Una figata Quindi Attenzione Quindi Che cosa mi dovete dire Questa volta In questa volta Nei commenti Mi lasciate detto Come si fanno i vasi Però aspettate Ma non è che i vasi Serve La cosa La porcellana Perché se Al limite Dobbiamo andare Anche a caccia Di porcellana Me sa proprio Di sì Vogliamo scommettere Guardate Sicuramente qualcuno Mi dirà Sì ciccio C'hai ragione Ma sono convinto Di sta cosa Sono convintissimo Quindi mi dovete dire Come si fanno i vasi E come si prendono Non mi corre Non mi corre Perché sto Stanchissimo Prendiamo Mangiamo Mangiamo Ok Tra l'altro I maialini Dovevamo metterli A riprodursi Un po' Ho sentito rumori A riprodursi Un po' prima Sinceramente No Non cadere mai Porca miseria E andiamoci Per di qua Siamo arrivati Siamo arrivati A casetta Vabbè Comunque non è Distantissimo Però Magari portando Degli animali È un problema Sto sincero Magari portando Degli animali È veramente Un problema Qui ci sono i maialini Non ci interessano E dobbiamo fare Il tetto Ma il tetto Dobbiamo prendere La regna ragazzi Lo facciamo più avanti Promesso Qui prendo i fiori Prendo i fiori Che sicuramente Ci serviranno A 100% Ma anche per fare Le tinture Ci serviranno Ci serviranno Quindi prendiamoli Perché poi un giorno Diremo Eh però c'erano i fiori Là non li abbiamo presi Bravi coglioni Roba del genere No? Quindi ci abbiamo 8 rose 12 papaveri Ci abbiamo 2 tulipani Che tra l'altro Sono bellissimi Quindi mettiamo qua E E questo Ce l'abbiamo Ah ci abbiamo anche Quell'altro tipo di fiori Ma chi se ne frega E ce ne andiamo Per di qua E ce ne andiamo Per di qua Allora ragazzi Effettivamente Non so quanto sia Durata la puntata Ma penso che Più di 25 minuti Sia durata Qualcosa del genere Assolutamente Quindi Mamma mia Che tristezza Ste zucche però Cioè almeno Potevano farle Che ridevano Almeno Dico almeno Comunque no Sembrerebbe che funzioni Sembrerebbe che funzioni Il metodo di Di piantagione Ecco Diciamo così Il metodo di piantagione Quindi Andiamo dentro casetta E ci depositiamo Però non è molto comodo Aver messo due ceste là Perché tanto Utilizzo sempre questa Ci posiamo Gli smeraldi Ci posiamo I tulipani Le rose Questi li dobbiamo Piantare Questi li dobbiamo Piantare Quindi li piantiamo Subito Li piantiamo subito Quindi questo Ce lo mettiamo Per di qua Le rocce Ce le stiamo Praticamente Finendo Tutte quante Non credo che i maialini Rimangiano un'altra volta Ma io Sai che vi dico Io ci provo Chi se ne frega Qua ci abbiamo Anche per dar da mangiare Alle pecorelle E io sai Vedete che vi dico Io ci riprovo Chi se ne frega Quindi Andiamo a vedere Se i maialini rimangiano Se tante volte rimangiano Fate schifo Aspetta Ritorno su Non uscite Non uscite Per chi esce e muore Ve lo dico Chi esce e muore Istantaneamente Vai vai Maialini Porcellini Vai Mangiate tutto Vai Riproducetevi Ok Mamma mia Una volta che prendi il via È qualcosa di fantastico E questo l'abbiamo fatto Poi Già che ci abbiamo in mano Già fa notte Ma che cos'è Già che stiamo qua Piantiamo queste Però mi avete detto Che su Ma no Non faccio i castelli Sulla sabbia Crescono più velocemente Quindi Queste le mettiamo qua Perché ho visto qualche commento Che mi avete detto Ciccio fatti La canna da zucchero C'avete ragione Perché ci possiamo fare La mappa E tante altre cosine Vediamo se rimangiano Le pecorelle Minchia Ste pecorelle Sono fatte Cioè già Crescono Va bene Quella mangia Questa mangia Con calma Fate calma A me mi serve Quelle nere Fate coppare No 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 Tu scoppa con quell'altra E che palla No Fate sesso Eh va bene Non ci capisco niente Vabbè Ma mangiate Ma chi se ne frega Riproducetevi Fate zumpede zumpede Vai Vieni qua Avete già fatto tutte Eh sì perché ci stanno Quattro pecorelle Perché sono due Quattro sei Eh no qualcuno mancava Vedi a qualcuno Ecco Perfetto Ok Perfetto Accura questo E perfetto Anche questo qua Ok questo l'abbiamo fatto E questo l'abbiamo fatto Perfetto Ragazzi Io direi che l'appuntamento Di oggi può finire qui Non mi dite a quanto sto Perché non lo so veramente Non lo so Non lo so quanto ho registrato E va bene così Se avete consigli Sulla casa Mi raccomando Dateli Fatemi sapere Come si fanno i vasi Questo è molto importante E ditemi come si prendono le mucche La prossima volta Credo che faremo Una piccola staccionata Per il ciccioneve Me l'avete chiesto tantissimi E al limite Ne farei anche un altro Di ciccioneve Che protegge le pecorelle Assolutamente Quindi Ragazzi Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Grazie mille Per i traguardi Che stiamo raggiungendo Grazie 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 mille Ragazzi Mi raccomando Io ve lo ridico Un'altra volta Andatevi A guardare Warhammer Batman Che sono serie Che hanno bisogno Del vostro supporto Mi raccomando Ragazzi Ancora una volta Grazie a tutti Pollicione in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Con il posto di giochi Per un tattaro Ciao